Nelle elezioni supplettive fantasma per il Senato vince Sandro Ruotolo, il candidato del patto tra PD e Demma. Un esperimento politico che nelle intenzioni del sindaco De Magistris potrebbe ripetersi adesso anche alle regionali, ma che però vale fino a un certo punto perché alle urne si è recato meno del 10% degli elettori. Gli elettori erano circa 400.000, i votanti solo 34.000. Alle elezioni politiche del 2018 nel collegio Senato 7 aveva votato il 60,92%. Dietro Ruotolo ci sono Luigi Napolitano del Movimento 5 Stelle con il 23% e Salvatore Guangi del centrodestra con il 21%. Il Movimento 5 Stelle nello stesso collegio aveva ottenuto alle politiche il 53% dei consensi nel 2018. Il calo c'è stato ma non così drastico come si temeva. Il sindaco De Magistris ha espresso grande soddisfazione per il risultato del suo uomo. La tenuta dei 5 Stelle spinge Demma ad invocare nuovamente un centrosinistra rinnovato e allargato anche per le regionali. Un baffo per Napoli, un uomo autonomo, libero, coraggioso e onesto che nel Senato della Repubblica rappresenterà finalmente Napoli per com'è. Un uomo che ha unito e non ha diviso. Certo l'affluenza delle urne è molto bassa ma l'indicatore è chiaro. Un'affluenza più alta avrebbe ulteriormente rafforzato la scelta di Sandro Ruotolo. Poi anche la tenuta importante del Movimento 5 Stelle lascia intendere che il percorso verso una coalizione civica regionale è quello che vogliono in tanti.